Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così salite sempre e aggiornarti su tutte le prossime novità. Allora parliamo un pochino della carta dedicata a te perché ormai siamo vicini, siamo agli sgoccioli. Adesso vi dico questo e poi vi do un'altra informazione. A partire dal 14 agosto pare, e dico pare, che siano state create le graduatorie con tutti gli elenchi delle persone beneficiarie che ne avranno diritto e che a questo punto, a questo punto, saranno da considerare valide. Quindi questi elenchi, questi elenchi di persone, dicono che sono stati visionati dai comuni, dagli uffici dei comuni, e poi hanno detto, avevano detto che il 13 di agosto era il termine ultimo, quindi l'ultimo giorno utile, che avevano gli uffici comunali per confermare gli elenchi di queste persone. Però attenzione, attenzione, perché qui, ecco qui effettivamente c'è un colpo di scena. Quindi rimanete sintonizzati perché poi dopo vi spiego anche che cosa è successo, perché in tutto questo ambaradano è successo un mezzo paciocco. Allora, intanto, se vi ricordate, qualche tempo fa, in un altro video, vi avevo detto che l'Inps aveva elaborato un elenco provvisorio dei beneficiari, suddiviso per tutti i comuni d'Italia, e poi, come vi ho detto prima, i comuni dovevano prendere questi elenchi, rivisionarli e rispedirli indietro all'Inps. Però qui sorge spontanea una domanda, come sempre. Ma la carta sarà spedita di nuovo alle persone, oppure arriveranno i soldi su quella vecchia? Quindi, arriverà una nuova carta o i soldi arriveranno sulla carta vecchia? Allora, pare, attenzione, attualmente pare di capire che tutti coloro che avevano ricevuto la carta nel 2023, se saranno riconfermati, perché ovviamente le condizioni economiche, familiari, che ne so io, possono essere cambiate nel frattempo, quindi, se saranno riconfermati anche per quest'anno, riceveranno la ricarica direttamente sulla carta che è già in loro possesso, che era stata consegnata l'anno scorso. Questo è quello che attualmente sappiamo. Poi, ovviamente, se cambieranno le cose, ve lo dirò, vi terrò aggiornati, però attualmente questo è, anche perché in teoria, in teoria sarebbe inutile ristampare di nuovo un'altra carta per ridarla alla stessa persona quando aveva già la carta precedente. Bisogna solo avvisare, bisogna solo tenere d'acconto, che nel caso in cui la carta sia stata smarrita o persa, perché c'è anche persone che potrebbero averla persa, cosa succede? Che le persone dovranno richiedere l'emissione di una nuova carta direttamente agli uffici postali, con tutto quello che ne consegue. Denuncia dai carabinieri, bla bla bla, torna lì in posta, fa richiesta, insomma, una menata pazzesca. Io spero che questa cosa non succeda, ecco. Ma comunque, per maggiori informazioni e su come si dovrà fare per ricevere questa carta, lo vedremo ancora meglio più avanti, quando effettivamente avremo maggiori informazioni anche da parte dell'Inps. Ecco. Però, ora vediamo un pochino il colpo di scena che vi avevo detto prima. Prima avevo detto che c'era una cosa in più che dovevo dirvi. Slitta, stanno slittando a questo punto ancora i termini per l'erogazione dei 500 euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli elenchi saranno disponibili dopo, a partire dal 21 di agosto, perché non sono ancora terminate tutte le varie operazioni di ultimazione degli elenchi dei beneficiari. Quindi, cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che slitterà ancora la disponibilità della carta dedicata a te. Allora, questo messaggio ce lo fa sapere l'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiane, se non ricordo male, questa dovrebbe essere... Comunque l'Associazione dei Comuni, ci fa sapere che l'Inps ha riaperto tutti i termini per la scadenza e per l'invio delle liste dei beneficiari. E a questo punto, la scadenza del 14 di agosto, praticamente, è stata posticipata. Questo vuol dire che, a quanto pare, per i tempi per il pagamento della carta dedicata a te, si allungheranno ulteriormente e quasi sicuramente ci saranno dei forti ritardi nel mese di settembre. E allora, io cosa vi avevo detto? Cosa vi avevo detto a gennaio e febbraio? Che tanto per settembre la carta non sarebbe arrivata a, praticamente, a nessuno. E che quasi sicuramente se ne parlerà per dicembre. Voi lo sapete che tutti i governi, dal primo all'ultimo, primo all'ultimo, fanno le cose sempre per Natale, eh? Per il periodo natalizio, perché la gente si spende di più, perché la gente mangia di più, perché vuole festeggiare, vuole far comprare regali e cicce, pasticce e in company. Quindi, vedete che da settembre, arrivare a dicembre è un attimo, no? Adesso c'è la scusa del ritardo dei comuni, poi ci sarà un'altra scusa del ritardo della posta, poi sarà un'altra scusa del ritardo della stampa delle carte, che ne so, io la butto lì, no? C'è tanto per fare degli esempi. E vedrete che da settembre, arrivare a dicembre è veramente un attimo. Anche perché da settembre, ottobre, novembre, dicembre, sono praticamente tre mesi, tre mesi, eh? Io cosa vi avevo detto? Eh? Cosa vi avevo detto? Quindi a sto punto fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi vedete questa situazione, cioè la vedete come la vedo io. Io la vedo così. Poi solo il tempo ci darà una risposta. Cambiando leggermente discorso, vi ricordo comunque la possibilità di diventare super iscritti al mio canale di YouTube. Ci sono due modi per diventare super iscritti e tra l'altro super iscritti hanno tantissimi, tantissimi vantaggi. Primo modo per diventare super iscritti, dovete andare qui sotto nella info box, attenzione, non nei commenti, ma nella info box. Trovate il primo collegamento, cliccate lì e lì vi viene spiegato come diventare super iscritti. Oppure se molti di voi non sanno utilizzare l'info box, non so, non capisco, non sono tecnologico, basta che andate nella pagina principale del mio canale di YouTube. Sotto il mio nome c'è un collegamento. Cliccate su quel collegamento, si apre un menu e anche lì ci sono varie opzioni, varie opzioni, quindi cliccate sul primo collegamento, diventa super iscritto e anche lì capite come fare per diventare super iscritto. Tra l'altro i super iscritti hanno dei vantaggi in più, perché possono vedere dei video extra che gli altri non possono vedere. E già lì, siamo lì. Poi vi ho sempre detto che i super iscritti hanno la priorità assoluta dei commenti, la priorità assoluta nei commenti, quindi ricevono risposte più velocemente. E poi quando ricominceremo le dirette live, qui a partire da settembre su YouTube, i super iscritti hanno anche lì la priorità nei commenti della chat, delle live, quindi ci sono tre vantaggi in più che gli altri iscritti non hanno. Quindi è molto importante diventare super iscritti del mio canale. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Vi dico brevemente questa cosa qui, poi eventualmente ne riparliamo meglio più avanti. Parliamo un pochino del bonus tende da sole 2024, che è praticamente una detrazione del 50% sulle spese che sono state sostenute per l'acquisto e l'installazione di schermature solari o chiusure oscuranti che proteggono la casa dal sole. Questo bonus tende, questo bonus tende da sole, fa parte di tutta una serie di lavori di agevolazioni con tipo l'eco bonus, la ristrutturazione, cioè fa parte di tutto questo gruppo lì, che prevede, come vi ho detto, una detrazione da indicare all'interno della dichiarazione dei redditi modello 730 o modello unico redditi. L'unica cosa da fare attenzione è che il limite massimo di detrazione ammissibile per queste spese è di 60.000 euro. A mettersi 60.000 euro di tende da sole già ce ne va, ecco. Se vi interessa, se vi interessa, che magari volete approfondire questo discorso qua, me lo fate sapere qui sotto nei commenti, però come sempre ovviamente non scrivete mi interessa, perché se no mi interessa su un video di 10 minuti, mi interessa, è un po' difficile da capire che cosa vi interessa. Dovete scrivere, sì, mi interessa, il bonus tende da sole, così io capisco che cosa vi interessa. Possiamo magari approfondire l'argomento parlando di effettivamente che cos'è il bonus tende da sole, come funziona il bonus, chi può richiedere il bonus, come richiedere il bonus, eventualmente la procedura da fare per la pratica all'Enea e quando scade il bonus tende da sole. Di tutti questi argomenti qui, se vi interessa, possiamo parlarne in un altro video, magari facciamo un video dedicato, parliamo solo di questo, e così ci risolviamo tutti i problemi. Poi, siccome lo sapete che YouTube sta buttando giù i video a tutti quanti, sta buttando giù i video in una maniera pazzesca, da un anno a questa parte, praticamente le visualizzazioni su YouTube sono crollate, sappiamo anche il motivo che è stata la causa del motivo, è stato quell'altro social, quell'altro laggiù, che arriva dai paesi dell'est, giù di là, e quindi YouTube praticamente sta buttando giù i video. A questo punto è molto, molto importante, molto, molto importante, che voi commentate qui sotto nella chat, quindi aprite la chat, aprite la tastiera e commentate con l'icona del sole, l'emoji del sole, così fate capire a YouTube che il video vi è piaciuto e magari sto benedetto YouTube lo spinge anche a qualcun altro, cioè spinge il video, lo fa vedere anche agli altri. Quindi è molto, molto importante che commentate qui sotto con l'icona del sole, ecco. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao! 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 Grazie a tutti.